... Grazie a tutti. 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 Sono a 600 Perfetto, a 2.600 1.600 Entrano E vabbè, fai 1.800 Non so, bravo 6.000 Ma ancora 1.600 Penso Questa stava, in chi era? Brava Io non l'avevo ancora Non l'avevo ancora Bello stai Sono 8 Scusate Scusate No, no Dior, mi hai donato il dubbio, sai? Perché non si fixo? Ma c'è qua che c'è? Scusate Sì, sì Scusate 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 Non per Morde Scusate 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 C'è Bonanno Buonanno Buonanno Conkumen Grazie. Grazie. Pensione è un'altra cosa. Anzi. Un'ansia! Però questo è il mischio. Fadure in eterno! Mimì ne dico paura! Se non è fatto posso fare? Vedi quella di mescolare. Non è fatto, è vero. non sei cosa si se no come si sciacqua la carina si sciacqua la sola lo iso peppa c'è pure il medaio metto pure peppa metto pure il giaccio giaccio ma è fianto di fare side peppa non fianti non fianti non fianti non fianti non fianti ma che è successo che arruppo non guarda la mia che cosa non fianti non fianti non fianti non fianti non fianti ci faccio bacio tutti in loco grazie e questo stai in loco stai giu ... ... ... ... ... ... Ma senti pure Peppe sono qualcuno! Per questo si deve trovare! Ah, ecco le pignote di trovare di qui! Non so, le pignote. E te fanno ancora uno scopio. E non te ne faccio. Sono in battaglia Buongiorno Buongiorno Ovviamente Bavamo Tampaglia Hai un po' di Tampaglia Hai un po' di Sarà una mossa Non so se cosa Sento Se manco giallo Sai sa No, 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 no. Simone!